Non ce l'ha fatta Rocco Giambelardino, 72 anni di termoli, investito da un'auto sulle strisce pedonali nella serata di sabato 11 luglio in Via Corsica. Il pensionato è morto dopo 10 giorni di agonia all'ospedale di Pescara, dove era stato trasferito a causa delle gravissime ferite riportate. Da una prima ricostruzione era uscito dal negozio di famiglia, piccoli arredamenti, per fare un prelievo al Bancomat di fronte, quando è stato travolto da una Volkswagen Tiguan diretta verso Campomarino. Le sue condizioni sono risultate già critiche per la violenza dell'impatto. Rocco aveva perso molto sangue, riportando fratture multiple, tra cui la più grave, al bacino. Dopo il trasporto al pronto soccorso del Santimoteo, è stato disposto il trasferimento nell'ospedale abruzzese, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Per fare chiarezza sulle cause dell'investimento, la procura di Larino ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, potrebbe disporre l'autopsia. Al vaglio degli inquirenti, la posizione del conducente dell'auto, un medico di 60 anni di Campobasso, dopo che ha circolata voce, ma non confermata, che al momento dell'incidente fosse al telefono. I carabinieri della compagnia di Termoli, coordinati dal comandante Fabio Ficuccello, stanno raccogliendo elementi ed eventuali testimonianze per ricostruire la dinamica dell'impatto, costato la vita a Rocco Giambelardino, originario di San Severo e molto conosciuto in città. La sua morte segue quella di un giovane di 35 anni albanese, avvenuta sempre a causa di un investimento lungo la statale 16 in territorio di Campomarino. Per sostenere le spese per il rimpatio della Salma ed esprimere vicinanza alla famiglia, la comunità ha organizzato una raccolta di fondi.